Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spero come risolvere i problemi al crash su OBS Studio e in questo caso andremo un attimo su Windows Defender Firewall per abilitarlo così e aggiungere la sua applicazione a questo Windows Defender Firewall in caso per esempio se tu apri OBS Studio e ti esce un errore che non si apre perché può essere anche a causa di Windows Defender quindi in questo caso non ci resta che inserire il setup, proprio l'applicazione per 64 nel programma Windows Defender quindi adesso vi faccio vedere in poche parole dobbiamo solamente andare su Windows Defender Firewall così ok, Windows Defender Firewall, consenti app o funzionalità attraverso Windows Defender Firewall, clicchiamoci sopra scendiamo fino a giù fino a trovare il nostro, come potete vedere, allora vediamo se c'è ovviamente non c'è OBS Studio perché dobbiamo aggiungerlo, quindi modifica impostazioni, consenti un'altra app andiamo a trovare la nostra applicazione OBS Studio dove l'avete installata io quindi l'ho installata sul mio disco SSD, quindi su programmi per 86, scendo fino a giù fino a trovare indietro su programmi eccola qua, allora su programmi non era solo per 86, bin 64 pit OBS 64 e facciamo apri aggiungi, una volta aggiunto al Windows Defender Firewall consentiamo e facciamo ok ed ecco che abbiamo aggiunto questa nuova funzionalità sul programma Windows Defender Firewall e adesso vedete se un po' si avvia oppure se avete altri problemi ragazzi commentate sotto al video quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao